...della Chiesa Ortodossa, con l'Arcivesco di Poltava e Mirhorod, manifestando sincero l'apprezzamento per il significato della presenza. Saluto infine tutti gli ucraini, quelli in patria e quelli sparsi per il mondo, e presenti anche qui a Roma. Questo albero resta accanto al presepe, in allestimento, fino al termine delle festività natalizie, per essere ammirato dagli abitanti di Roma e dai pellegrini che giungono qui da ogni parte del mondo.